Emanuele Filoni vi dà il benvenuto a questo nuovo video in cui parleremo ovviamente della serie femminile ma anche della Women's Super League, daremo un po' di dettagli, un po' di informazione anche a chi non la segue o a chi non la può seguire Allora innanzitutto parliamo della serie femminile settima giornata, andiamo a vederci i risultati Milan contro Sassuolo, 1-0 i gol di Zichic di Tacco, bellissimo, su cross di Bergamaschi Roma contro Juventus Women, 0-4, la Juventus vince, stravince e convince Tavagnacco contro Inter, 0-2, vince l'Inter con un gol stratosferico, prima di Tarenzi, bellissimo destro sotto la traversa e poi di Gloria Marinelli, Empoli-Florenzi a 0-0, ma che partitona dell'estremo divenzione dell'Empoli, Raccali Baldi che parla anche un calcio di rigore a una delle mie favorite, una delle mie preferite, ovvero Melania Martinovic Orobica Bergamo contro Pink Bari, 1-3, vince il Pink Bari e devo dire che Nuovi Manu è la stella che splende in alto per quanto riguarda la Pink Bari E poi Fiorentina che batte 4-2 la Sverona con la doppietta della ritrovata, Ilaria Mauro Allora, migliore in campo, partita per partita, Milan contro Sassuolo, Zichic e Bergamaschi Zichic per il gol di Tacco, splendido e Bergamaschi perché veramente corre, corre, corre Roma-Juventus, tutte quelle della Juve, cioè non ce n'è stata una che andava al di sotto Devo dire difesa ottima, tutto ottimo, non ce n'è stata una migliore Certo, il gol bellissimo di Roma-Rusucci, però è chiaro che se andiamo a vedere nel complesso sono tutte state bravissime Tavagnac contro Inter, Tarenzi per il gol e per l'assist, perfetto E poi Marinelli per il gol, pazzesco, il secondo gol del vantaggio degli Inter Empoli di Florenza abbiamo detto 0-0, Ragari Baldi, minore in campo assolutamente Robica Bergamo contro Pink Barry abbiamo detto 1-3, non è in mano, veramente straordinaria E Fiorentina appunto, Ellas, Ilaria Mauro, come già detto, è quella che mi ha veramente sorpreso in positivo Non sorpreso perché però aveva iniziato molto male questa nuova stagione, anche con l'Italia non aveva brillato E servono questi gol, serve una maggior convinzione che questa ragazza può e deve ritrovare Durante il corso del campionato, a partire dalla prossima giornata Ovviamente ha già iniziato questa sua convinzione, già ha avuto luogo, già ha avuto inizio Nella settima giornata, però ora andiamo un po' a vederci che succederà nell'ottava giornata E poi andiamo un po' a gustarci la classifica Allora, Sassuolo-Inter alle 12 di sabato giocheranno e questa sarà un'altra bella partita Verona-Europica 14.30, sempre di sabato, sempre sabato Bari contro Empoli e Florenzia contro Minan Sempre alle 14.30, quindi Florenzia-Minan secondo me sarà una bellissima, bellissima partita ragazzi Imperdibile E il Minan fuori casa qua farà fatica secondo me Allora, se vince convincendo vuol dire che è pronta per continuare la striscia, no? Che sta facendo Se pareggia non mi stuperei, se perdesse è un brutto colpo, però perde nel fortino del Florenzia Io lo chiamo fortino perché veramente lo stadio, il campo della Florenzia è qualcosa di... Mi ricorda molto quello della spalla E dove quando ci vuoi giocare non è mai detta la vittoria, non puoi cantare vittoria fino al novantesimo Quindi, vabbè, Juve contro Fiorentina, sabato su Sky alle ore 20.30 Questa bellissima partita che vi invito a seguire perché secondo me qui ci saranno belle giocate È chiaro che sono due squadre tecniche, tra l'altro tasto tecnico soprattutto ovviamente tra Juve La Fiorentina però ha giocatrici anche veloci, non solo tecniche, giocatrici che avanti fanno male E quindi per la difesa della Juve non sarà così semplice Secondo me giocheranno molto meglio rispetto alla Supercoppa Uno perché secondo me è il campionato e nel campionato della Fiorentina a meno seconda ci vuole arrivare E due perché la Fiorentina ha recuperato un po' di giocatrici un po' acciaccate nel periodo della Supercoppa E quindi sabato 20.30 su Sky E poi Roma-Tavagnocco sempre su Sky alle 12.30 domenica Insomma, Sky ringraziamo Sky, un po' di pubblicità, vabbè, non che io debba fare pubblicità di Sky però Sono Sky sta facendo un ottimo lavoro, nel senso Ok, c'è qualcuno che potrebbe dire che potrebbe fare due partite a giornata Non è che io non sono d'accordo, anzi, fosse per me Però adesso che la fa anche Team Vision, credo che alla fin fine Cioè, alla fin fine vada anche tra virgolette bene così Sì, chiaro che se fanno una partita in più magari potrebbe anche starci Però lì non è che sono che comando, sono io che posso dire qualcosa assolutamente Quindi secondo me Sky sta facendo comunque un buonissimo lavoro E dobbiamo ringraziare Sky di questo ovviamente Perché comunque c'è anche il post partita, il pre partita Anche approfondimenti settimanali Quindi è chiaro che non ne possono parlare come la serie a maschile Come il tennis, è normale, quello è poco ma sicuro Però forse un giorno, magari non dico come il calcio maschile Ma un giorno, magari con l'approdo anche di altre società professioniste Come ad esempio il Napoli, la Lazio Vedremo un saltrano perché Napoli in Serie B è primo Secondo me il Napoli quest'anno potrebbe fare il grande colpaccio E sarebbe importantissimo Paralossalmente sono da Lazio, sono tifuso da Lazio Ma paralossalmente sarebbe più bello vedere il Napoli Perché? Perché è vero, la Lazio potremmo vedere il derby Personalmente sarebbe molto più contento Ma se devo pensare a un movimento calcistico È importante che anche nel sud Si diffonda questa concezione di calcio femminile Che comunque si sta piano 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 però molto piano Sta prendendo un varco nel sud Un po' piano diciamo E mi ricordo Che era Florenzia Pink Bari Forse Pink Bari-Florenza 800 persone Non sono niente Però già iniziano a carburare E nel sud serve Quindi io mi auguro che Napoli Che in futuro qualche altra scuola del sud Possa farci E mi auguro che la Pink Bari Quest'anno non vada in Serie B Non credo perché comunque Ora andiamo a costarci la classifica Ecco, vi spiego perché La Juventus ha 19 punti Milano 17 seconda Fiorentina Terza a 16 La Roma insomma giallorosse A 12 insieme a... No, l'Inter a 11 scusate Quindi quinto l'Inter Ottimo posizionamento Per l'Inter Sesta in classifica l'Empoli 10 punti Zimaf Florenza a 10 punti Però forse l'Empoli per gol fatto Zimaf Florenza passa avanti Bari 7 Sassuolo 7 Verona 5 Tavagnacco 2 E Robica Bergamo 1 Robica grandissima Non una grandissima delusione Nel senso però Può far sicuramente di meglio di questo Secondo me Tavagnacco Ecco, Tavagnacco è una grandissima delusione Il Verona Il Verona ha perso troppe partite Partite ultimamente Più lo deve fare ancora Per allontanarsi Da quelle brutte posizioni E' vero che adesso Il Tavagnacco ha 2 Recuperare insomma Punti su punti Diventa difficile per il Tavagnacco E credo che così possa concludersi La classifica Nel senso Che almeno che Il Sassuolo, il Verona E la Pink Bari Iniziano a perdere A perdere 3-4 partite Il Tavagnacco inizia a vincere 2-3 partite di fila Cosa che vedo molto dura Io al momento vedo Robica E Tavagnacco veramente Gen serve B Però il campionato è lungo Tutto può succedere Le squadre possono stancarsi Tavagnacco Magari da una vittoria Può trarne positività E quindi Vedremo un po' Ora però andiamo a gustarci Un po' Quello che è successo Allora Andiamo un po' a parlare Di Milano e Sassuolo C'è ben poco da parlare La partita Diciamo Non è stata una delle più belle Secondo me Però Ci sono state anche buone occasioni Con la traversa Di Linda Duccerici Mini Da fuori Poi il gol di Zicic Bellissimo di Tacco Su azione di Bergamaschi Insomma Il Milan Ha meritato Il Sassuolo mi sembra Bevo in un paio di occasioni Ma niente di che Quindi 1-0 Milan Empoli di Florenza 0-0 Partita molto combattuta Però Dove ci sono state anche Buone occasioni Da parte di entrambe le squadre Soprattutto da parte del Florenzia Che si dimostra essere Una squadra molto ostica Perché ci dà Non è che Mostra il miglior calcio Cioè L'Empoli invece gioca bene L'Empoli se non gioca meglio Ha giocato meglio Il Florenzia Ma ha creato di meno Paralossalmente Cioè Ha giocato meglio Il senso più possesso Più tocchettini Però Secondo me Gli è mancato qualcosa in avanti Invece Il Florenzia Ha sbagliato un calcio di rigore Con Melania e Martinović Grande per Aerea e Garebaldi Anche se non era difficilissimo Chiaramente Però parare un rigore È sempre bello È sempre positivo Per un portiere Per la squadra Chiaramente difendente E devo dire la verità Il pareggio Non lo so Se Cioè Uno può dire Si sta bene entrambe Io non sono così sicuro Perché comunque Era un scontro diretto Tra due squadre Che avrebbero potuto superare A questo punto Se l'Empoli Avevano 9 punti ciascuno Se per esempio L'Empoli avesse vinto Avrebbe raggiunto la Roma In quarta posizione Cioè Ragazzi avrebbe superato l'Inter Pensate un po' L'Empoli Probabilmente in quinta Perché In quanto a scontro diretto La Roma ha battuto l'Empoli Però viceversa La Florenza Se avesse vinto Avrebbe addirittura Scavalcato la Roma Per scontro diretto Ora non so Se si parla di scontro diretto O di gol fatto o subiti Però La Roma a gol subiti Non sta messa bene E quindi Forse la Florenza Ha subito qualche Gol dicino in più Diciamo così Però insomma Per entrambi le squadre Una vittoria sarebbe stata Importantissima Per dire Guardate che noi Siamo tra le prime 5 Invece a questo punto Rimane sesta e settima Sesta Diciamo Entrami in sesta posizione Ma alla fine Diciamo così Per la parità di punti Però Non lo so Non lo so Certo Non è un risultato negativo Poco Poco ma sicuro Però La vittoria sarebbe stata Ancora più importante Chiaramente In questo momento Cioè Non è che loro Avevano 8 punti Dico Vabbè Se vinci vado Quinto C'era una grande occasione Di superare l'Inter Secondo me Però vabbè Roma-Juventus La Roma È partita anche bene Ha creato qualcosa Nel primo tempo Però nel secondo tempo Si è appiattita Dopo il gol Di Maria Alves Nel secondo tempo Ha subito il 2-0 Di Girelli E lì Di testo ovviamente Lì Si è un po' Appiattita la Roma Non ha saputo reggere E è arrivato il 3-0 Su un grandissimo gol Di Martello Succi Che peraltro Era messo Ovviamente Neanche bene con il corpo Se noi andiamo a vedere il gol Martello Succi Era messo ovviamente Di fianco Di lato Quindi ha dovuto Ovviamente fare una rotazione Con il corpo E con il piede Ragazzi è difficile Perché di solito Uno tira bene Quando è di fronte alla porta E invece era messa Di traversa alla porta E riuscireva a girarsi A mettersi quasi frontalmente Ma proprio in In un batter d'occhio Un batte baleno Diciamo E complimenti Veramente Gionatrice fantastica E secondo me Mi ricordo un gol Contro la Fiorentina Fantastico E sempre tiro da fuori Però in quel caso Lei era voltata Proprio di fronte alla porta E forse era anche Leggermente più vicina O più o meno Nella stessa posizione Però Poi arriva il 4-0 Continua a fare di Caruso Però papera netta Di Ciasar Che dopo la papera Contro il Sassuolo Adesso inizia a pesare E io pensavo Lei addirittura Mello di Pipitone Ma A questo punto Non voglio dire Però Una papera Contro il Sassuolo Clamorosa Una papera Clamorosa Contro La Juve Lì contro il Sassuolo Non andava bene Perché avete vinto 2-1 Qua è vero Che anche qua Ok Qua 3-0 3-0 Non serve cambiare niente Però potenza psicologica Per un portiere È fondamentale Non fare papere Cioè poi puoi subire gol Ok Però se non è colpa tua Non è colpa tua Ma se fai papere È come se fai un altro gol Cioè È per un difensore Quindi Vabbè Passiamo ora però Un po' a darvi Un po' di dettagli Riguardo la Women's Super League Diciamo la Premier League Femminile Settima giornata Che ha visto Questi risultati Manchester United Contro Brighton 4-0 Per lo United Everton Tottenham 3-1 Quindi Tottenham Diciamo non è messa male Un po' come il Tottenham Maschile Però insomma Ha incontrato Un Everton Davvero in grande spolvero Bristol City Contro Man City 0-5 Poco da dire Arsenal Batte Liverpool Solo 1-0 Mi viene da dire Però anche se ha avuto Altre occasioni Mi ricordo una Con Jordan Nobbs Clamorosa Birmingham Contro Chelsea 0-6 Chelsea Fa un po' come il City Vince In maniera netta West Ham Contro Rating 2-3 West Ham Stava vincendo 2-0 West Ham Grande delusione Devo dire la verità La classifica Vede Chelsea a 19 City 18 Arsenal 18 Everton 15 Attenzione all'Everton United 12 Sono contentissimo Per il Man United Perché viene dalla Lega minore E' un po' come l'Inter Se vogliamo Inter 11 punti Però quinta e classifica United 12 punti Però quinta e classifica E per lo Samente Juve e Chelsea Cioè Quindi come vedete E' vero che la serie E' vero Questo ci mostra comunque Che La serie S Si è sviluppata In positivo Però Si è evoluta Però non è ancora Come nella Home Super League Perché se la Juve Avesse adesso 21 punti Potremmo già dire Cioè E' difficile anche dire Che i 19 punti del Chelsea Siano uguali a quelli Da Juve Secondo me no Sono ancora più pesanti Più importanti Quelli del Chelsea Questo per far capire Anche come il sito e l'Arsen Che stiano lì Veramente Siano squadre forti Mentre Juve e Milan Sono squadre forti Al momento Della serie Femminile La Valentina La vedo ancora Un po' più indietro La Roma La vedessa Ha perso 4 Come se adesso Il Chelsea Battesse L'Everton O l'Arsen Di tanto Io non lo so Sinceramente Se questo Non è caduto Quindi Comunque La Juve e Super League Al momento E' ancora più avanti Della serie Femminile Con varie squadre Rating A 10 punti Però con una partita in meno Attenzione Quindi potrebbe Superare lo United Tottenham a 9 Comunque Una buona posizione Anche se qualche punto in più Lo potrebbe fare West Ham a 6 Brighton a 5 Bristol City 3 Birmingham a 3 Con una partita in meno Quindi Potrebbe comunque sia Riuscire a vincere la prossima E fare Arrivare a 6 punti Insieme a West Ham E poi Dolcissima E ultima in classifica Il Liverpool Allora Che dire Liverpool Deludente Ma anche West Ham Sanno a 5 punti di distanza West Ham Chiaramente Non rientra Delle ultime due Però West Ham Può fare qualcosa in più I prossimi match Della Women's Super League Ottava giornata Vedranno Brighton contro Reading Arsenal contro Bristol Everton contro Chelsea E questa Non è una partita facile Per il Chelsea Uno perché Il gioco fuori di casa E due perché L'Everton sta facendo molto bene E quindi direi che Il pareggio non mi stupirebbe E questo potrebbe favorire Sia il City Che l'Arsen Anche perché Abbiamo visto che L'Arsen Già contro il Bristol City Che non è Che è Deci in classifica Poi abbiamo Birmingham Contro Tottenham E qui Birmingham Potrebbe anche vincere Potrebbe anche vincere Per arrivare a 6 punti City contro Liverpool E qua Poveraccio Poveraccio Il Liverpool Non è da dirlo Perché io penso Che possa perdere Anche sul 3-4-0 Difficilmente Vincerà questa parte Il Liverpool Anzi Penso che abbia L'1% di possibilità West Ham Ma United Questa è una bella partita West Ham Deve vincere Però ha deluso Molto le aspettative Quindi al momento Andrei con il Man United Che comunque Dovesse vincere E magari Dovesse espirare Un passo Dulce Passo Passo Del Reading Perché comunque Lo United Deve vincere Se vuole mantenere Quella posizione Perché Reading La partita in meno Però ha 10 punti Quindi se vince Lo United Perde Lo supera Con una partita in meno Quindi E' fondamentale Insomma Vincere Per lo United Almeno Per tenersi Dalle prime 5 posizioni E' chiaro Che United Non è che ambisce Alla terza posizione E' normale Quelle 3 sono Arsenal Sì del Chelsea Però già Dovesse Discutere Della Quarta posizione Del Leverton Allora Mettere in discussione La quarta posizione Del Leverton Allora sì Allora sì Perché no Comunque Io penso Che con questo Sia veramente tutto Vi ringrazio Per avermi seguito Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di mettere un like E lasciare un like Appuntamento ragazzi E alla prossima